Beh, abbiamo fatto la reaction alla conferenza stampa di Spalletti per Napoli-Roma, facciamo anche quella di Mourinho. Vediamo questo botta e risposta. Dai, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e buona visione. Hai iniziato alla grande, Mourinho. Con quale eleganza? Partiamo lì, alle 4, no? E' un quarto. Siamo tranquilli. Non sai niente. C'è un po' di freddo questo signore qua. Dove è mangiante? Mangiante è il Latin Lover. No, non ancora. No, aspettiamo due minuti. Ma che? Mi vedo strana, Mourinho. Quando eri lì, questa mattina non ha sentito nessuno. Certo, certo. Ah, dovrei vedere cosa? E ride. Allora. Bella è sta conferenza. Ti manca, ti manca. No. Un minuto iniziale. Sì? Eh? Hanno tolto l'audio. Cioè, questo è il canale ufficiale della Roma. Olio Roma e sicuramente ci saranno tantissime domande su questo. Io voglio partire però da Zaniolo perché di fatto ormai è un caso di mercato. Dai che abbiamo fatto poche domande su Zaniolo in queste ultime settimane. Era possibile sapere come gestirà il calciatore e che evoluzione avrà a questo punto la storia, visto che che evoluzione avrà la storia per quella che è la sua gestione, poi che dovrà avere del calciatore qua a Roma, e se ci saranno anche dei provvedimenti eventualmente disciplinari nei suoi confronti. questo non ti posso rispondere. Purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo quello che ho detto dopo la partita di Spezia, in questo momento... Di Spezia? Sembra che questa sia la direzione. Il tuo gabinetto, questa è la direzione. Perché da un mese che il giocatore ogni giorno dice chi vuole andare. Per te dare un esempio, dopo la partita di Spezia, io ho dato lunedì libero a tutti. Io ho detto martedì è allenamento opzionale. Io sarò a Trigoria, il mio staff, tutti i staff, saremo a Trigoria martedì, però voi giocatori avete l'opzione di venire o di non venire. Tutti i giocatori che erano in panchina a Spezia sono venuti tutti a allenare. Tanti dei giocatori che hanno giocato a Spezia sono venuti o a piscina, o a recupero, o al dipartamento medico sono venuti. Questo è il profilo di giocatore che tu vuoi come allenatore. Giocatore di squadra, giocatore con compromesso con il club, con compromesso con i compagni, anche i giocatori che erano in panchina. Io non sto giocando, però la squadra avrà bisogno di me, tardi o temprano. Questo è il concetto di giocatore che tu vuoi con te. Quando un giocatore ti dice, non solamente all'allenatore, ma principalmente alla società, dice anche ai compagni ogni giorno, però il più importante è che dice alla società, io non voglio giocare nella Roma, io non voglio vestire la maglia della Roma, io non voglio tornare a giocare, io non voglio tornare a allenare con il gruppo. Io devo dire purtroppo, perché la situazione ideale è ovviamente che il giocatore è felice e che lascia gli altri essere felici e seguire la sua strada, la sua direzione. Io ho avuto questa sensazione quando ho detto che mi aspettava Nicolò qua il primo di febbraio e adesso ti dico, purtroppo sembra che è quello che va a succedere. Dopo se tu vuoi sapere dettagli, se tu vuoi sapere quello che ha successo, come ha successo, questo non è per me. Per me è semplicemente dire che una volta in più Nicolò non è a disposizione della squadra, una volta in più il nostro focus è la prossima partita, una volta in più il mio focus come allenatore e chi sono i ragazzi che vogliono andare con me a luttare per questo club e a luttare per questi tifosi. Dentro di questa dinamica Nicolò non fa parte del progetto Napoli, se possiamo chiamare così. E ti dico, Luca, aiutami perché non voglio parlare più di Zagnolo. Mi dispiace, Morimi, ti aspettano altre domande in futuro. Grazie. Passiamo da Adriano Serafini a SRoma.com Buonasera, mister. Vado sulla partita e le chiedo che Napoli si aspetta domani. Il Napoli che abbiamo avuto dal primo giugno, dalla prima partita. spero di non essere mal interpretato, si dice no, però complimenti al Napoli per il scudetto, lo ha vinto. Ma è scena. È loro. È loro meritatamente. Tu dici che squadra mi aspetto. Mi aspetto esattamente quello che loro sanno dal primo giorno. È la squadra più forte, è la squadra che ha un buon allenatore, che ha dei ottimi giocatori, che ha fatto un ottimo mercato, che stanno facendo un lavoro fantastico, e che sono arrivati a una distanza di 12 punti per il secondo, di 13 punti per qualcuno che poteva avere un po' di feeling, che possono arrivare, un Inter per esempio, però 12-13 sono tanti, per una squadra come loro. Non ci credo che stia dicendo questa cosa. Sono tanti, per la poca consistenza dell'Inter, del Milan, per la poca consistenza, non si sente neanche che è un avversario che può fare di fila 6, 7, 8 vittorie. È scudetto loro. La domanda è scudetto loro e Roma domani vai là a festeggiare scudetto del Napoli. No, andiamo là a cercare di vincere la partita. Non voglio dire una cosa differente. Però complimenti ai napolitani, complimenti ai giocatori, a Luciano. Hanno vinto scudetto e hanno vinto molto meritatamente. Allora, ragazzi, speriamo che non succeda, ma se dovesse accadere quello che tutti noi stiamo pensando dopo queste dichiarazioni, ma io voglio organizzare un esercito sotto a casa di Murigno e con eleganza cerchiamo di fare quattro ghiaccere con lui. Gazzetta dello Sport, Massimo Cecchini. Buonasera, mister. Le volevo chiedere questo. Lei parlava adesso, Giusei, parlato di questa inconsistenza anche delle avversarie. Il Napoli è anche frutto di un percorso, di un progetto, di un cammino, anche se un po' ha sorpreso tutti visto che inizio stagione magari le previsioni potevano essere diverse e il vantaggio è gigantesco. Stavo rivedendo un po' alcune tue vecchie interviste sia degli anni inglesi che anche l'anno scorso e dicevi io non sono un allenatore per squadre che vanno dal quarto all'ottavo posto. Io sono allenatore per un altro tipo di squadra. Visto che la Roma, ahimè, anche per regole abbastanza singolari ha questo problema del fair play finanziario che legherà le mani almeno fino al 2026. Il tuo futuro qui è un progetto, è legato alla prossima Champions oppure visto che le possibilità di sviluppo della Roma queste sono, si stanno vedendo da questo mercato, dal mercato estivo. È una cosa che può condizionare il tuo futuro, le possibilità di investimento, l'arrivo in Champions League e dei soldi della Champions League per quello che riguarda il tuo futuro. Io capisco la tua domanda però penso che questa è una domanda che mi la deve fare la società. Io magari quando ero più giovane e più maturo magari ero capace di discutere con voi stampa delle cose che secondo me sono cose interne. La maturità aiuta a essere equilibrato, aiuta a essere sai, non voglio dire più etico però più uomo di società, meno egoista, meno egocentro che si vuole utilizzare questa parola. Quando è stato equilibrato Murigno pur nell'ultima stagione questa attuale, quando è stato equilibrato esattamente? Io capisco la tua domanda però è una domanda che mi deve fare la società quando loro pensano che me la devono fare però è una domanda che io non ho risposta per te. Grazie. Roberto Maida Corriere dello Sport mancano quattro buongiorno al di là della questione Zagnolo il mercato si va a concludere con pochi cambiamenti nella rosa adesso abbiamo intravisto sul Bakken Shomuro a quanto sappiamo sta andando via ma insomma più o meno la rosa è quella di prima ma di fatto ha due giocatori in meno perché mancherà Zagnolo almeno finché non deciderete di reintegrarlo e Carsdorp manca quindi qualcosa di sostanziale la Roma si è indebolita dopo questo mese prima di tutto un regalo per te grazie parlare di regali con permesso vostro con due giorni di ritardo lasciami utilizzare voi per ringraziare tanta gente che mi ha fatto gli auguri tanta gente super simpatica io non parlo ovviamente della mia famiglia e dei miei amici più come si dice più stretti parlo di tanta gente che io neanche conosco e che via molti molti opzioni mi hanno fatto arrivare anche dei regali gente che non che non conosco solo posso già non sono emozionato perché è stato due giorni fa però voglio ringraziare tutta questa gente perché è fantastico non mi aspettavo e ringrazio tanto il regalo per te è la squadra che gioca domani ti faccio un regalo gioca Rui Zalewski a destra Spinazzola a sinistra i tre difensori centrali con Concumbullo in panchina gioca Cristante Matici i pellegrini con Diwali con i contagi ci risparmia un po' di lavoro certo vabbè la formazione classica la tua domanda in questo momento si finisce la situazione di Eldor sì abbiamo un giocatore in meno però abbiamo un giocatore in meno che è un ragazzo fantastico che ha lavorato tanto per avere opportunità di giocare a Roma non ha avuto tante opportunità bisogna giocare bisogna giocare sempre bisogna avere la possibilità di svilupparsi anche prima di noi ha giocato poco in poco tempo a Genoa bisogna giocare e si finisce bene questa questa situazione di questo prestito per questi sei mesi è qualcosa che lui ha bisogno è qualcosa che lui merita fa a tutti noi un po' di tristezza perché lui è uno dei nostri che va via però magari va via solo per sei mesi magari torna è molto importante per lui giocare se abbiamo uno o meno e se non abbiamo nessuno che arriva è pragmatico è ovvio che abbiamo una opzione di di meno però è così non ho niente più da dire è ovvio si aspettava qualcosa di più magari dal mercato no non mi aspettava perché la situazione del financial fair play adesso è diventata un po' più chiara per tutti perché con questa circostanza di vai in prestito non vai in prestito chi succede chi non succede penso che la gente adesso ha una perspettiva più più aperta di quelle che sono le limitazioni di della Roma e la Roma questa uscita di di Eldor significa un un piccolo cambio da quando siamo iniziati a gennaio è una struttura di una partita alla settimana e adesso inizia una struttura diversa domenica mercoledì quarti di finale di coppa sabato campionato dopo arriva Europa League la struttura cambia e quando tu hai qualche problema e non ha più opzione non ha una migliora della della rosa tu ti puoi aspettare più difficoltà però gruppo fantastico gruppo amico gruppo solidario gli andiamo tutti insieme fino alla fine più tranne Zagnolo i tifosi che sempre stanno dietro questi questi ragazzi quando finisce la sanzione fuori a casa? tra più o meno 50 giorni ancora? sì tanto scusi ma per capire Karlsdorp è nella stessa situazione di Zagnolo per lei cioè è fuori? poi Roberto per favore basta sì sì no è per capire sì scusate grazie grazie Karlsdorp sarà fuori fino a che lui vuole stare fuori bisogna poca cosa per stare per stare dentro adesso sta infortunato con un piccolo problema però di solito si sta allenando sempre normale con noi da sempre dall'Algarve che si allena normale con la squadra qualcuno in questo processo è stato veramente bugiardo gli ha lasciato anche un'immagine negativa di un allenatore di un club che non meritavano perché stiamo parlando delle bugie per Ricchi di essere opzione bisogna poca cosa e dipende solo da lui passiamo a Repubblica Matteo Pinci nel frattempo se ne è aggiunta un'altra quindi sono 4 da adesso facciamogliela fare così fai un secondo quanto mando? 4 da adesso invece di te vai salve mister salve lei ha detto che le altre squadre hanno 5, 6, 7 giocatori del livello di Paolo Di Bala le volevo chiedere quanti ne ha secondo lei il Napoli di giocatori del livello di Paolo Di Bala e quando ha citato le squadre che possono o meglio che non possono inseguire il Napoli ha citato il Milan e l'Inter ma non ha citato la Roma visto che più o meno ha i punti del Milan e dell'Inter volevo chiederle come mai giocatori giocatori dello stesso livello di Di Bala nessuno tanti bravi tanti grandi giocatori anche un giocatore che posso dire una piccola storia che è giocatore loro io ho parlato anche con lui FaceTime lo voleva prendere al Tottenham il Tottenham non mi ha aiutato il giocatore costava 10 milioni il Tottenham ha offerto 5 si poteva fare 7-8 per il Tottenham in quel periodo lì non poteva spendere soldi adesso sì però che un momento lì non poteva spendere soldi e ho parlato con il ragazzo due o tre volte FaceTime il ragazzo voleva tanto venire però non è venuto e adesso è quello scarso che gioca la Kim è bello voleva Kim però grandissimi giocatori Napoli grandissimi giocatori grande squadra però per me come Paolo no mi trovo abbastanza d'accordo grazie passiamo al tempo Lorenzo Pes buonasera aveva detto qualche settimana fa che Benaldum non era ancora clinicamente guarito ecco come sta il ragazzo se ci sono aggiornamenti e se c'è adesso un tempo definito per rivederlo con il gruppo allenarsi in maniera completa il tempo sicuramente aiuta anche se non allena con la squadra in situazione competitiva inizia già a fare delle piccole cose con la squadra deve fare sempre ogni 15 giorni tutti i scan per capire la situazione il tempo passa e lui si avvicina io non voglio dire quando è impossibile dire quando però non lo so magari una settimana 10 giorni per stare con la squadra 2-3 settimane per poter giocare qualche minuto non lo so veramente non lo so però tutto va in una direzione positiva non è che abbiamo avuto ritardi no lavoro molto bene e sempre di più grazie facciamo la penultima lo monaco il romanista monaco monaco non conosco nessuno da monaco io ne voglio fare una domanda calcistica però poi la cronaca mi porta anche da un'altra parte perché stavo valutando leggevo su un giornale inglese stamattina parlavano del Chelsea che vorrebbe Murigno di nuovo il prossimo anno ma mi chiedevo il principio per cui una penultima squadra della Premier League è in grado di fare un'offerta come vorrebbe la Roma per Zaniolo e la squadra campione d'Italia non sa farla e sappiamo le difficoltà della Juventus dell'Inter e quindi del Milan il Napoli ha dovuto prima cedere una serie di giocatori per poter rifare la rosa e l'ha fatta molto bene mi pare perché c'è questa differenza strutturale dal punto di vista proprio della capacità delle squadre di stare al passo capitano ovvio delle domande i diritti televisivi i sordi che girano nel campionato che cazzo domande l'Italia passa tutto dei dritti d'immagine o inizia tutto dei dritti d'immagine dritti tv io penso che è quasi una metafora però è la realtà che quando si gioca la finale del championship che è la ceribi italiana la ceribi italiana è il championship inglese quando giocano la finale del playoff e quando giocano che è una squadra che ha finito fra il terzo il sesto in ceribi inglese quando giocano quella finale lì quella finale lì è la partita che ha più soldi sul tavolo anche di più che una finale di champions quella squadra che vince quella partita di ceribi e che vai nella Premier League prende più soldi che il campione d'Europa quando gioca la finale di champions questo dice tutto è un potere economico completamente completamente diverso e è vero tutte le squadre di Premier League al di là delle sue ambizioni al di là del suo potere sociale sono squadre che dal punto di vista economico sono più forti sono più forti delle squadre italiane magari magari si può parlare della Juve con potenziale diverso però tutte le altre squadre sono più in difficoltà mi ricollegavo all'inizio della domanda la domanda in realtà era un'altra era visto le cose che ha detto prima a proposito del fatto che la società poi dovrà farle qualche domanda prima o poi lo sbocco di Murigno immagino può essere solo da quelle parti lì il futuro il futuro di Murigno insomma ah no lo so questo non lo so però quando tu hai detto non tu penso che qualche giornale inglese lo ha scritto e dopo qualcuno di voi lo hai preso non ho capito molto bene perché qualcuno diceva la premia vuole Giosè gli altri dicevano Giosè vuole la premia Giosè Giosè non vuole niente Giosè non ho mai voluto niente io ho sempre stato tranquillo nel mio posto e quello che succede succede io non io non voglio niente io io voglio vivere il giorno dopo dopo giorno e come diceva prima quando arrivare quando la società pensare che è ora di parlare con me su il futuro io sono qui ogni giorno durmo qua praticamente ogni giorno vado a casa pochissimo anche sono sempre sono sempre qui non sto confortabile per parlare di queste cose con 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 voi unicamente bene ma boh ultima ultima grazie è morto buonasera mister ciao ciao e mi pare di capire che lei i problemi li gestisca molto bene però sicuramente sembra sembra però sicuramente non fanno bene alla squadra tutto quello che è una dinamica di spogliatoio vorrei andare un po' più avanti rispetto a fine gennaio e quindi le vorrei parlare di Smalling anzi vorrei che lei mi parlasse di Smalling per capire se ha parlato con il ragazzo se gli ha chiesto se rimane a Roma visto che è in scadenza di contratto io credo che sia il primo punto per Tiago Pinto appena finisce il mercato e lei se vuole che lui rimanga se ne ha parlato con il ragazzo se ne ha parlato col Tiago Pinto con la proprietà insomma mi può fare un punto sulla situazione di Chris Smalling oltre al fatto che domani giocherà titolare il punto è che sta giocando e giocando molto molto bene e dimostrando di avere un grande focus nella Roma un grande focus nella sua nella sua professionalità penso che è che è conosciuto da tutti che è una situazione aberta non ho mai parlato con lui su questo qua perché penso che è una situazione ovviamente personale per lui di risolvere con il club però la mia commissione personale è che lui vuole rimanere ma come voleva rimanere Zaniolo posso dire perché lo so la società capisce la sua importanza capisce la sua professionalità capisce il suo rendimento principalmente nelle due ultime stagioni dove sta giocando sempre senza nessun tipo di problema e la mia convinzione è che si può trovare un si può trovare un accordo non è ma buono della sua la sua capacità di giocare di stare ma bene finita posto posto vabbè degli spunti particolarmente interessanti diritto già detta formazione è la classica che schiera Murigno bella la cannonata sulla corsa scudetto palesemente fatta apposta per rompere le uova nel paniere al napoli però c'è stata eh bravo Murigno bravo bravo poi vediamo chi riderà alla fine perché se poi questa cosa che hai detto ci si ritorce contro penso che anche tu fare una brutta fine te lo dico vabbè ragazzi mi raccomando iscrivetevi lasciate un like e noi ci vediamo in un prossimo video a a a a Grazie.